Ciao a tutti ragazzi! Allora, questo intanto non è un video di pesca, oggi piove, c'è il diluvio, non si può andare a mare, quindi io e l'amico Peppino, insieme a Luciano, abbiamo deciso di intrattenerci in qualcosa di differente, che non riguarda naturalmente la pesca. Allora, cosa dobbiamo fare Peppino? Dobbiamo provare una novità che quasi tutti stanno cominciando a fare, e sono praticamente, facci vedere, io non so di che si tratta, dobbiamo provare queste caramelle qua, rischia il gusto, rischia il gusto, è un merda. Allora, che cosa consiste? Vabbè, ormai lo sapranno quasi tutti. Devo spendere un sacco di soldi e mangiare la vomita, cosa schifosa. Esatto, e mangiare è merda fondamentalmente. In che cosa consiste? Ci sono delle caramelle dentro a questo pacchetto. Ora, metà di queste hanno un sapore normale, le altre metà in teoria saranno cacare. Ora, secondo... L'idea di che è stata? L'idea di per tutto. Per esempio, abbiamo l'ascella puzzolente, o fragola, cibo per cani di scatola. Qua c'è alito fetido, c'è al Luciano preoccupato. Caccola viscita. Caccola viscita e cibo per gatti. E vabbè, qualche altra schifezza. Ma rendetevi conto cosa mi devono fare. E vabbè, se non si può andare a male. Che poi sono due buste, si vede che c'è quanto ho aggiunto. Le caramelle saranno buone come una cosa meraviglia. Saluta mia moglie che mi ha detto che ho speso dei soldi inutili. Esatto. Poi c'è la curiosità. E la comprati pure ai miei figli. Le istruzioni? Due euro a pacchetto. Due euro a pacchetto. Ma non c'è la... Come si gira sta cosa? Ah, queste si... Ah, cioè, allora, tipo, siccome sono degli... È un gioco la figlia. Siccome sono degli zaffoni di merda. È un gioco. Al posto della Brondel. Prima c'erano. Io avevo visto che c'era la Brondel. Prima c'erano e ora invece c'è Grattè e Vinci e lo spara aggono, giustamente. Eccola è la novità. È la novità. Proprio più nuova di questa. Non c'erano e vinci. Quello che esce è figli di lanci. Un'immondizia. Allora, siccome le caramelle, per fortuna, sono a 3 a 3, tipo, e allora noi ora proviamo a vomitarci. Però noi dobbiamo fare una cosa. Che se fa schifo. Ciò dobbiamo mangiare lo stesso. Certo. E non si sputa. No. Vabbè. Quello che esce. Abbiamo a disposizione un micro d'acqua. Lo stesso cuore. Lo stesso cuore. No. No. Tra una caramella all'altra, poi... Un caffè. Un sapore di merda. Un sapore di caldo. Un bicchiere d'acqua. Vabbè. Quindi, niente. Allora. Quindi che facciamo? Grattiamo qua? Come funziona? Tutto che fa? Lei mischiamo oppure non c'è bisogno? Va bene. Allora, Dracula, Ascella. Vabbè, prima è già che è troppo pink. No, tutte e due. Perché quelle sono, per esempio, quelle quelle non c'è. Ah, però qua sarà... Ascella puzzolente, ragazzo. No. Va bene. Ah, naturalmente è sto... Se te lo dicevo, non se ne scrivai nulla. Questo video è dedicato... Sono anche scadute. E le sono anche più buone. Ora, questo video è dedicato a Marco Quatermos che non è dato... Salva, è del 2019. È dato scadute. È dato scadute. È dato scadute. È dato per dispesso. Se lo vedete, sapete qualcosa? Saluta tutti, diciamolo Quatermos. Quatermos. Lo salutiamo pure Fabio. Salutiamo anche a Fabio Scramuzza. ha detto a Fabio Sub 75 che anche lui ti ha lati tanto da bene. Mettiamone qua. Comunque. Allora, quindi noi che facciamo? Aspetta, scusa. Mettiamo tutte le caramelle qua. Piano. Piano. Dai, riusciamo, versalo. Aspetta, aspetta. Lui è fine. Vabbè, non lo sentirei. No, no, l'odore è... Che meraviglia. Aspetta, non confondere. Qua ce ne sono due tipi. Eh, le caramelle si stanno mangiando tutte. Tutte. Come tutte? Tutte. 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 Dobbiamo morire all'ospedale. Vabbè. Poi io non me ne ho ragione. Allora. Io stavo volendo adesso. Chi cominci? Dai, ciao. Ah, ma qua ci sono le istruzioni. Noi non ancora abbiamo le... Sì, io dico. Vabbè, devi abbaccare stop e leggiamo le istruzioni. Vabbè. Vabbè. Allora. Quindi? Qual è la mia? Quella è al centro. Questa che ha un colore diverso o aia? Sì, c'è. Bellissimo, Daniela. Ciccino. Auguri. Una pezza. Auguri, auguri. Pronti? Via. Viaccia. Vabbè. Viaccia. Guarda. L'uva bocca di amico ed buona. L'uva bocca di amico ed buona. Non sento niente, il zucchero sento. Vabbè, è la prima... Una cagata. Dai, Daniela. Ora, il mio vetore di un euro. Ma qua vicino cosa c'è, Villa Sofia? Cosa c'è? Allora questo è gusto fragola o ascella puzzolente, dovrebbe essere qua, questa rossa, che è questa, aspetta, aspetta, vabbè sì, questa è rossa, allora, perché sono proprio queste, questa per te, questa per te, e questa per me, siamo pronti? Mi chiamiamo sicuro che la caga è buona pesca, buona pesca, buona pesca, compa questo è brutto, senti la faccia, la posso buttare? Anche, la faccia, 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 mamma mia sta morendo peppino ti sento male roba è poca sacco quello che ti spetta ce l'ho attaccata da tutte le parti sta registrando ma non c'è la spiega sto piangendo stai facendo uno schifo stai di tempo di mondo aspettate che mi spuggia non lo so 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 vai Luciano accanto a te sento catto mi sento male che schifo ragazzi tocca a Luciano oh per questa cosa questo che schifo che puzza che fa mamma mia grattori la freccia alito quella gialla puzzolente allora che ci siamo mangia di poco fa chiamo allora ascella quella gialla alito puzzolente quella gialla tocca a Luciano scegli allora prego peppino incredibile Daniele mi bruciano gli occhi non lo so pensare il cibo per cari io ehi per questo che dovrebbe essere limon oppure oppure alito puzzolente vabbè che già lo abbiamo però già mi sento male allora cinci ma sono unte pure più buone cinci la mia è scura rispetto a quella tua uno forza uno due tre ah 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 che mi dici lui c'ha cattaroncino perché no te la devi ingoia no te la devi mangiare tutta 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 la devi ingoia ingoia ma non mi mettere qua oh ma se mai apri apri ma se apri e c'è tutto acqua colpa no non mi voglio bagnare no mi voglio bagnare sei salve sei salve pesciando tu niente l'acqua è buono sono bellissime se caramelle che stupi allora tocca di nuovo a te no sono troppe compa no sediti mi sa sento no 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 mincaio tanto culo vicio a te che c'è che c'è scritto è uscita arancione quindi ora peppino cibo per i cani cibo per ogni scato cibo per l'unico cibo per l'unico cibo per l'unico cibo per l'unico no non si capisce allora allora di nuovo cin cin questo a che gusto sarebbe cibo per car cibo per car arancia allora la mia è sicura l'arancia cibo per car zampare allora cin cin che è no 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 è massica come sono i croccantini comunque la mia l'arancia ma fa schifo ai cani non c'è che cazzo l'arancia allora fa schifo dire che è croccantini no mi avete fatto un attentato non ho fatto niente non ho fatto niente non ho fatto niente non ho fatto niente con tutta la cena la munita che cazzo l'acqua è bellissima aiuto mi sciacquare la bocca stavolta stavolta però facciamo così tutta si le mangio aspetta stavolta facciamo così cominciate voi nooo tutti e tre assieme vai sento c'è un profetto che cos'è quella verde non lo so mela cacco la viscida cacco la riscida che è schifo non parla allora la salute sempre via siamo pa in cazzo è buon sì buona è buona poi ce l'arrivo ma se diventa è mela a me la è me la mia sedimenta mela io riproverei una cosa bello no no mi è andata bene no questa è sedimenta non è bella no la cosa di menta no comunque porno minchia ma ripeghiamo no vuoi un altro da riprenderti da prendi una prendi l'ultima che come è la rossa quella è rossa prendi un altro che sono ci sono due tonalità di rosa ragazzi no questa è più chiara questa è qua questa è più chiara vediamo aspetta eh minchia ora scatto è giusto erba marcia no questo è di daniele no questo è di pepe no vedi che rosa sono rosa vabbè queste sono non è che c'è allora qual è la mia questa questa è tua questa è mia allora e cosa è quella rosa erba marcia di frutti tu sei sicuro che non mi hai preso questa qua ascella puzzolente vabbè damoni no ascella puzzolente è questa compa minchia l'ho provata io uno due tre buona compa compa te l'ho scartata giusta raccontaci l'isoform è l'isoform è l'isoform è l'isoform mamma ma io l'ha lidata è l'isoform ci manca quello di colpi azzurro l'ultima da scegliere come l'ultima no basta tutti i colori abbiamo fatto la gialla la gialla ma niente l'ultima l'ultima 2 facciamo l'ultima gialla che ci stavamo vomitando che abbiamo mangiato troppo scusa aspetta voglio vedere i colori no tutto è giallo sono fresco oppure vediamo come vedere avvicina colori vabbè non ci metto il colore cos'è quella gialla un po' merda si ma aiuto aspetta un palito fetido io già l'ho fatto allora io ho beccato ma anche il zucca non mi piace no adesso vediamo la bocca di disa minchia questa perché la mia non l'ho posto vabbè pazienza deve toccare a me buona pesca buona pesca mangiarti levo questa bottiglia d'acqua la devo manbricare la devi mangiare tutta inghiotti che cosa era è brava buona no non si può capire no non si può capire tu l'hai buttata no ecco compaggia di questa casa ma noi pure pensi di mangiare vai mangia mangia ma io c'è tutto cosa non è capitata pure io ti mai diso come se ne vado dai mangiare io l'ho passata mangia la prima io l'ho passata già io ti posso capire tu l'ho capito e quindi mai ti bocca non si può capire ciò è come se cacano nell'aglio e poi te lo torno a mangiare dai tutte e due no 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 un po' poi dai a me li muovi ah non vale sta sputando le mangiate un'altra no un po' già la prima l'ho fatta dai ma vedi poi ho una reazione ma voi potete vedere che mi portavo dentro il friccio lo spazzoleno lo spazzolone lo spazzolone ci può che stifo alla fine allora diciamo che vediamo che ha vinto allora io ho sbeccato due io ho tre che era erba marcia e cazzini sport e tu nena no sì e cazzini sport no e ascella puzzoletto comunque tu quant'è ne hai bercato è brutto ha vinto Luciano ha vinto Luciano hai vinto una caramella 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 scelta a tua scelta allora a tua scelta ti hai vinto una prima di Daniele montare questo video li devi portare tutto il negozio e li devi offrire a Guercio però la liquidizza deve essere sabato pomeriggio e io devo essere lì perché devo vedere la la pancia di Guercio gli fai il video il telefono allora ora questa 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 sfida diciamo io e Peppino vorremmo girarlo anche io arrivato a questo punto visto che ho vinto un nostro caro amico sardo si chiama Marco detto anche toc 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 101 toc 101 quindi Marco raggruppa due tre amichetti tuoi della tua crinica che è o che è o chiama tu e riproponeteci questa sfida che io Peppino e Luciano abbiamo fatto quindi aspettiamo ora dopo la versione siciliana anche la versione sarda proprio la pretendiamo giusto aspetta pretendiamo quindi mi raccomando 40 anni queste cose si devono fare 40 anni e fa ancora che cosa lì si formo cacca piccina qui non fa il detergente per i cani cioè non potete capire la puzza che c'è qua dentro comunque quindi Marco Marco almeno cancellario ma io c'è il stomaco sott'opra Marco quindi aspettiamo la tua con il tuo controvideo e poi piano piano vediamo se possiamo diffondere questa cosa tra la cricca del tubo diciamo con questo noi vi saliamo ve lo consiglio vivamente noi andiamo a vomitare perché veramente tipo ne possiamo più e vediamo rifare magari una seconda auguri ora vorrei sapere io chi è questo cazzo di malato che si è pentato auguri a a a a a a Ah! Ah!